A Giulia ho fatto una cosa orribile, voglio pagare. L'ha ripetuto più volte durante l'interrogatorio di ieri davanti al PM Andrea Petroni, Filippo Turetta accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettino. Collaborativo, pronto a non sottrarsi alle domande incalzanti della pubblica accusa, avrebbe ammesso le due fasi dell'aggressione, prima nel parcheggio di Vigonovo, poi nella zona industriale di Fossò, poi sfociate nel delitto commesso con un coltello da cucina, usato per colpire ripetutamente l'ex fidanzata. Secondo quando si apprende, Turetta starebbe mangiando pochissimo, non ha voluto nulla durante l'interrogatorio di nove ore, avrebbe chiesto solo dell'acqua. Alla prossima Grazie a tutti.